Brutta sorpresa alle Roncalli di Pistoia, al rientro a scuola dopo la chiusura del fine settimana. Accorgersi di quel che era avvenuto il personale del Plesso che è al bastione Tirion di Portalborgo, ospita a classi dell'istituto comprensivo Roncalli Galilei e della scuola Cino. I gnoti hanno provocato danni considerevoli in un raid tra furto e atto vandalico che non ha risparmiato né aule, della Roncalli in particolare, né uffici. In corso la valutazione dei danni e di cosa è stato sottratto. Operazione che per essere portata a compimento richiederà del tempo vista la devastazione causata. Porte sfondate, banchi e sedie sfasciate in un brutto episodio su cui indagano i carabinieri avvertiti subito dopo la scoperta di quel che era avvenuto. Da una prima ricostruzione i ladri vandali risulta siano entrati forzando la recinzione esterna della scuola per poi penetrare da una finestra. Una volta dentro il plesso hanno scassinato macchinette distributrici di bevande e alimenti sottraendone le monete, che non sono state risparmiate assieme a quanto accertato dal primo inventario a computer un proiettore e un televisore. Un furto ingente per la scuola a cui si assomma la valutazione dei danni gratuitamente provocati per impossessarsi del maltotto.